Democrazia, sostantivo femminile che deriva dal greco, che secondo il dizionario Treccani è la forma di governo in cui il potere risiede nel popolo, che esercita la sua sovranità attraverso istituti politici diversi. Cioè la forma di governo che si basa sulla volontà popolare esercitata per mezzo di rappresentanze elettive e che garantisce ad ogni cittadino la partecipazione su base di uguaglianza all'esercizio del potere pubblico e può essere diretta quando il potere è esercitato direttamente dall'esemblia popolare o mediante i prebisciti oppure in diretta rappresentative parlamentare quando il potere è esercitato da istituzioni rappresentative o ancora popolare, espressione con cui veniva indicata genericamente l'organizzazione politico-sociale di tutti i paesi socialisti. Ma esiste ancora la vera democrazia? In base a quello che afferma Luciano Violante in Democrazie senza memoria, libro presentato durante il festival Leggere e scrivere, soltanto il 40% della popolazione mondiale vive in democrazia, aggiungendo che le democrazie si suicidano quando le idee di libertà e di giustizia attorno alle quali si erano costituite diventano loro estrane. E allora gli abbiamo chiesto se fosse meglio una società democratica oppure una società libera. Ma non vedo che sia antagonismo tra queste due espressioni. Una società antidemocratica non è una società libera. Una società dispotica non è una società libera. Una società democratica è necessariamente una società libera. Ora, libertà non vuol dire anarchia, vuol dire stare dentro le regole, il senso di responsabilità e il senso dei doveri. Nella società libera sono tutti liberi. Nella società dispotica sono liberi soltanto alcuni. E allora come possiamo definire una società democratica? La società in cui c'è il pluralismo, c'è rispetto per le opinioni degli altri, libertà di manifestazione del pensiero, libertà religiosa, equilibrio tra i poteri dello Stato. E c'è l'idea che bisogna realizzare continuamente principi di eguaglianza. In Italia adesso c'è democrazia? Certamente sì, potrebbe essercene di più. Ma guardi, la democrazia ha sempre il problema di mantenere le proprie promesse, perché eguaglianza, libertà, diritti sono domande che crescono sempre, man mano che ci si rende conto della loro importanza. Lei ha recuperato il concetto di compromesso come valore di democrazia. Certo, sì, è una cosa che ho citato Rassinger e poi ho citato Amos Oz, una serie anche di grandi studiosi costituzionalisti, invitano a considerare la negoziazione con l'avversario un cardine della democrazia parlamentare, perché in Parlamento ci stanno soggetti che rappresentano opinioni diverse e pezzi diversi di società. E quindi se loro non si parlano e non decidono insieme, attraverso reciproci cedimenti, evidentemente il Paese non va avanti. E come recuperare la frase di Voltaire? Sì, tutto l'illuminismo, giustamente ha ragione, perché in realtà quello che oggi è un po' debole è il mondo creato dall'illuminismo. Ma per evitare che prevalgano richiami puramente emotivi alle patrie, al capo e così via, è importante riprendere in mano i fili della ragione.